Cioè, qui è stato sempre un luogo di emigrazione, ma nonostante questo ci sono dei milanesi di terza generazione che sono una razza rarissima, in tutta Milano è rarissima. Sì, c'è il signor Franco che abita qui da quando è nato e i suoi genitori abitavano qui e lui abita qui tuttora ed è un po' la figura storica della cascina. E poi la fortuna di questo edificio è stata che a un certo punto, a metà degli anni 2000, sono arrivati man mano, attratti anche dal luogo pittoresco, dall'ossimoro tra la città e la campagna dentro la Bovisa in trasformazione, i giovani hanno preso delle case e le hanno ristrutturate. E pian piano ognuno ha incominciato a mettersi a posto il proprio spazio. Lì poi andiamo a vedere, c'è una maiolica in ceramica di Ciorosco, qua c'è uno scultore del caragüense della scuola toscana. Ok.